Avevo una stella Michelin io! Se soltanto un anno fa mi avessero detto che mi sarei ritrovato con uno scantinato a cucinarmerda a frecotta! Trentamila follower in sei mesi! Le recensioni sono ottime! Siamo l'idolo dei ciliegi! Noi siamo pieni di debiti! Noi dormiamo nel forno di una carrozzeria! Oh! Ti tocchi ancora io scocco faccia, hai capito? Ma sì, e come farei? Ti fatti su una bella scaletta? Perché mi hai dato un filiastro così stupido? Parlo con il sorriso il telefono amico! Il centro di prevenzione dei suicidi! Ho parlato con voi ieri notte! Il paese è nel caos! Ma lo vedi cosa sta succedendo là fuori? Dai! La città è allagata di... Merda nera e puzzolette! Ma so chi è andata da dove viene! Etiopia! Oh che bello! Dicono che sia un paese stupendo! Ma sì? E che dici? Come mai Igor non va a scuola? Per molti anni è stato vittima di bullismo! Cavolo mi dispiace una brutta piaga il bullismo! Lo conosco bene purtroppo! Era anch'io! È stato maltrattato anche lei! No, io ero il bullo! Oddio! Oddio! Spostati! Vai via! Dai vieni che medico! Oddio! Fammi la storia su Instagram! Diamo la mazzetta al medico per toccare tutti i test e dire a tutti che sono cicliati! Ma che c'è di famiglia adesso? Hai scoperto qualcosa di lui? Non ancora! Se le do il suo nome mi lasciate la semilibertà! Hai sentito quello che tu ho detto? Devi sparire! Quando dicevo che sono disposto a tutto pur di farcela! 14. Due zuppe congolesi con cereali di glutinati! L'ho scelto io di venire in posto dove di notte voi ammazzi noi! Devi tornare a casa! Andiamo a casa nostra! Andiamo a casa nostra! Andiamo a casa nostra! Andiamo a casa nostra!